Ciao a tutti, sono la dottoressa Elenia Monopoli e oggi ho deciso di fare questo video perché volevo parlarti di un'esperienza di una mia cliente che mi sta molto a cuore lei viene da me per l'analisi del capello la prima volta che è entrata manifestava una situazione come questa sul cuoio capelluto una situazione che la lasciava molto provata ebbene questa è una alopecia androgenetica che colpisce di solito gli uomini ma anche molte donne ne soffrono soprattutto negli anni della menopausa situazioni come queste però si possono manifestare anche in teneretà anche tra i 25 e i 30 anni può cominciare un assottigliamento e un diradamento di notevole importanza allora il mio consiglio di oggi se anche tu avverti un assottigliamento in questa area un diradamento iniziale in questa area è quello di dover iniziare a nutrirti di sostanze che contengono tanti antiossidanti e tante vitamine del gruppo B e perché no fare uso di qualche integratore perché di solito questa situazione è ormai irreversibile ma ai primi sintomi si può rallentare il decorso e il processo specie se si tratta di una alopecia androgenetica dovuta anche a forte stress di conseguenza il mio consiglio di oggi è quello di assumere ripeto questi integratori o comunque alimenti sani e rivolgerti perché no ad uno specialista che ti possa spiegare come trattare la cute grazie per l'ascolto ricorda sempre che alla farmacia di Nardo il tuo benessere ci sta a cuore grazie per l'ascolto